ciao a tutti oggi prepareremo il latte di riso il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa gli ingredienti sono riso bianco acqua e zucchero di canna diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta versando mezzo litro d'acqua e il riso chiediamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 25 minuti a 100 gradi velocità 2 aggiungere lo zucchero azionare il bimbi 3 minuti a velocità 10 questo punto lo stato del composto sarà questo adesso aggiungeremo a filo dal foro del coperchio l'acqua rimanente azionando il bimbi per 60 secondi a velocità 10 il latte di riso è pronto filtriamolo con un colino latte di riso si conserva in frigo per due tre giorni grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti